Approvato il bilancio di previsione 2019 a Domenia, pareggio a quota 19 milioni e 400 mila euro, investimenti previsti per una cifra prossima al milione e 100 mila euro, tagli su diversi capitoli, manifestazioni turistiche, culturali e sportive, spese legali e urbanistiche, mantenute intatti invece le risorse sul sociale, destinati 200 mila euro per la sistemazione degli impianti sportivi. Interverremo sugli spogliatoi dei campi sportivi di Bagnella e Diagrano, annunciato Francesco Perrone, assessore al bilancio, e poi sulle illuminazioni dello stadio Liberazione dell'impianto di Cireggio e ancora daremo una mano per la palestra della pesistica e per la sistemazione di un muro al circolo del tennis. Il bilancio è stato provato con le astensioni del Partito Democratico e Domenia si cambia. Inseriti anche 180 mila euro per gli interventi sulle scuole. Non abbiamo ancora definito la suddivisione, ha precisato l'assessore ai lavori pubblici Stefano Strada. Nostra intenzione è riqualificare il tetto della scuola dell'infanzia di via Fossalone, riverniciare le scuole elementari Diagrano e sostituire i servizi igienici dell'asilo infantile sempre Diagrano. Previsti in oltre 130 mila euro per il rifacimento di via Mazzini, vorremmo asfaltarla ma discuteremo della soluzione col Consiglio di quartiere, con il Consiglio Comunale e con la Commissione del Paesaggio, ha spiegato Strada. L'intervento più importante per il 2019 sarà quello su Piazza Don Andrea Beltrami e via Tito Speri per una spesa di 450 mila euro. Non toccate le imposte su Imo, Tasi e Irpef, in aumento dell'8% latari per l'incremento dei costi di smaltimento degli ingombranti da parte di Conservicio. Si tratta di una scelta precauzionale ma non è detto che il tarifario verrà confermato da Conservicio. ha detto il sindaco Paolo Marchioni, insieme ad altri comuni ci stiamo opponendo a questa scelta gravosa per tutti i cittadini. Si è infine parlato di progetto emblematico. Le domande dovranno essere presentate alla Fondazione Cariplo entro il 28 febbraio. Inizieremo a disporre le nostre idee in giunta il 28 dicembre, poi discuteremo insieme alla maggioranza e all'intero Consiglio per farci trovare pronti con un progetto condiviso, ha sottolineato Marchioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!